Si è concluso l'evento finale della prima edizione del progetto GSK Vaccines pieni di vita. Circa 200 studenti dell'ITT LSA Tito Sarrocchi di Siena, accompagnati dalla preside, la professoressa Emanuela Pierguidi e da alcuni docenti, hanno riempito l'auditorium della sede di Rosia di GSK Vaccines, seguendo con grande attenzione e partecipazione l'intervento tra gli altri del responsabile del Centro di Ricerca e Sviluppo di Siena, Giovanni Della Cioppa. Lo scopo del progetto è stato quello di far conoscere al nostro territorio, partendo dagli studenti, la passione, le sfide e le soddisfazioni che contraddistinguono il percorso professionale e personale di chi ha scelto di fare della ricerca scientifica una scelta di vita.